Ed un altro dramma, Padova torna in ospedale dopo una visita e scopre che il bimbo che portava in grembo era morto da giorni. Shock in città, la procura ha aperto un'indagine. Il 28 giugno era andata in ospedale per un controllo di routine, 5 giorni dopo però una donna incinta. Al settimo mese non sentiva più il battito del bambino che aveva in grembo e così era tornata in ospedale sempre a Padova. I medici della clinica ostetrica hanno deciso di far nascere il feto con un cesareo ma al momento dell'intervento si sono resi conto che la creatura non viveva più già da qualche giorno. Per la famiglia uno shock, il marito della 35enne si è recato alla stazione dei Carabinieri di Prato della Valle per raccontare i fatti. Il pubblico ministero del Tribunale di Padova, Francesco Tonon, ha chiesto di acquisire le cartelle cliniche e ha aperto un'indagine. Ora c'è da capire per quanto tempo la donna si sia portata in grembo e il bimbo morto e quali possano essere le responsabilità dei medici. Chi l'ha visitata pare abbia rilevato che il battito cardiaco del feto aveva dei rallentamenti ma probabilmente non era emerso nulla di grave. La signora infatti era stata rimandata a casa con l'impegno di ritornare in clinica tra qualche settimana. Poi la tragica scoperta.